Ciao a tutti ed eccoci qua con un nuovo video di Unboxing Avon! Dunque, eccomi tornata con un nuovo video. Scusatemi per l'assenza, però ho lavorato tantissimo come promoter e come badante, mi sono fermata un pochino l'altro giorno, stamattina ho ripreso e per cui non ho avuto molto tempo di fare creazioni, di fare per l'appunto dei video perché facendo la mattina, poi il pomeriggio da una parte e dall'altra, quindi sono stata parecchio incasinata. Ma adesso vi faccio vedere ciò che ho ordinato di Campagna 15 di Avon. Scusatemi tanto, la caldaia sta partendo, partiamo subito con il video. Allora, una cliente mi ha ordinato questo bagnoschiuma da 500 ml Bubble Bat Traditional Lemonade. 500 ml Poi Un'altra cliente mi ha ordinato, aspettate un attimo che lo prendo Un secondo solo Ovviamente non li aprirò per una questione di serietà verso la cliente Allora, lo smalto Gel Shine Questo qua nella tonalità Very Berry Mark Poi Rose Red Sempre Gel Shine Poi le matite Avon True Questa qua, una Grimmer Stick Questa qui, scusatemi, metti a fuoco Eccola qui Nella tonalità di Turquoise Burst Poi quest'altra che è una Avon True Scusatemi Emerald Globe Poi un altro Gel Shine Nella tonalità Wine Dine Me Ecco qua Poi Per me Ho ordinato Questa nuova gamma di rossetti Della Color Trend Creamy Delicious Matte Liquid Lipstick Vediamolo com'è Tanto è mio Quindi lo aprirò con voi Eh per la miseria È duro Eccolo qui Vediamolo Subito Vieni fuori Vieni fuori Vieni fuori Wow Liquid Lipstick Vediamo Scusate Ecco qui Oh si è spostato Scusatemi Vediamo subito Sbucciamolo Sbucciamolo Oh bellissimo 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 Scusatemi Scusatemi ma non ho ancora comprato il cavalletto Sono con il coso del selfie Mi piace tantissimo E' più su un colore orchidea diciamo Bello bello Sì Matte Vediamo se ha un profumo Buonissimo Sì 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 Delicious Sì ha un profumo caramellato Mi piace Mi piace Mi piace Scusatemi se si muove Poi Vediamo all'interno della confezione Cos'altro Troviamo Questo qua Lo mettiamo qua Scusatemi un attimo Sì devo comprare il cavalletto Quello che si è rotto Va bene Va bene Ci riuscirò ad avere il tempo di andare Ci posso riuscire Vediamo subito Allora Troviamo Un Avon Outlet Con questa palette Della marca 9 euro e 50 Con 40% di sconto Belli colori Nero Argento Metallizzato Rosa Verde Bellissimo 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 Sì sì Ah mi sa che me la compro Vabbè Adesso mettiamolo qua Poi Vediamo subito Cos'altro mi è arrivato Allora Un catalogo Di campagna 16 Poi vediamo E un catalogo Di campagna 17 Con la nuova linea Distillery Questi qua Devo andare a vederli Di persona All'evento Il 24 O un evento Di Avon Sperando che li portano Vorrei vederli Di persona E vi farò un video Se posso Se mi danno questo permesso Poi Abbiamo Un altro Avon outlet Consum Il Che cos'è Questo Scusate Fondotinta Compatto Eh sì Due in uno Con fattore Di protezione Bene 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 Bello Bellissimo anche il packaging A vedere dalla foto Dunque In settimana Andrò All'evento Di manualmente Fiera E vi farò Un video Anche lì Poi farò Delle nuove Creazioni Con le perline Appena Avrò un po' di tempo A disposizione Poi andrò Anche a Miniatura Italia Ovviamente Vi farò il video Anche di quello Quindi vi prometto Almeno altri due Sperò di poter fare il terzo Con delle nuove creazioni Di perline Intanto anche papà È al lavoro con il fare Un nuovo alberello Che vi faremo vedere Prossimamente Dunque Mi scuso ancora Tanto per L'attesa Scusatemi Se sono veramente Stata Tanto Lontana Da youtube Io ringrazio Tutti quelli Che hanno mantenuto L'iscrizione E vi invito A condividere Il video A mettere Un mi piace A fare un commento E a cliccare La campanella E soprattutto Vi invito Ad iscrivermi Al canale Anche se Non sono quel Granché Come youtubers Però Penso Di poter Migliorare Con il vostro Aiuto Io vi saluto Tanto Ci vediamo Al prossimo Video Un grosso Bacio Ciao Ciao A tutti